Ciao, benvenuto o bentornato, io sono Leandro Lombardo e anche oggi, come ogni giorno, da lunedì al venerdì sono qui per raccontarvi un po' cosa succede nel mondo Juve e con qualche chicca anche sulle altre squadre. Partiamo subito in bomba, ieri sono girate diverse immagini di Allegri e Luis Campos, che attualmente è il dirigente più importante, il PSG, che si occuperà del mercato insieme. Però, state tranquilli, Allegri rimarrà un altro anno l'allenatore della Juventus. Infatti, Luis Campos e Allegri hanno un buonissimo rapporto e probabilmente si sono incrociati a Monte Carlo o casualmente, oppure sono banalmente così tanto amici da essersi dati appuntamento a Monte Carlo per farsi una chiacchierata e non dovrebbe esserci nessuna sfaccettatura di mercato. Luis Campos era il consigliere di Florentino Perez che voleva portare Allegri al Real Madrid. Poi, come sappiamo, Allegri non ha accettato la proposta in Real perché ha deciso di sposare appieno quella della Juventus. Allo stesso tempo, Gazzetta, in particolare con Carlo Laudisa, fa sapere che nella chiacchierata effettivamente c'è stata una sorta di proposta, magari, sapete, sei lì a parlare e dici Ma tu, PSG, che dici? E Allegri ha ribadito ancora una volta che ha sposato il progetto Juve e che vuole rimanere alla Juventus. Nonostante, c'erano state delle offerte per Allegri nei passati anni dal PSG che erano intorno ai 12 milioni. Quindi Allegri rimarrà alla Juventus anche perché, ragazzi, notizia bomba più che altro perché così almeno sappiamo la data. Allegri ha già scelto il centrocampista che porterà avanti il reparto del Polpo Gbà. Ieri finalmente sono usciti tutti allo scoperto. È un affare definito, definita anche la data di arriva del Polpo. A giugno possiamo andare in vacanza, possiamo stare sereni. Poguà dovrebbe arrivare a luglio prima del ritiro, in modo tale da iniziare il ritiro già con i compagni. Quindi sia Romeo Agresti che Gianluca Di Marce hanno confermato questa cosa. L'unica giornale che ne ha parlato è la Gazzetta, confermando ancora una volta le cifre 8 milioni più 2. Strano, eh, che Corriere e Tutto Sport non abbiano parlato, nonostante in passato sia Gazzetta e Corriere che Tutto Sport abbiano aperto con delle pagine di Dybala, di Lukaku. Anche Gazzetta in prima parte non ha parlato. C'è qualcosa che non fa. Qualcuno direbbe servilismo. Io non ci credo, però diciamo che Marotta sa gestire bene tutte queste cose. Su Dybala, ragazzi, l'Inter e il giocatore non hanno ancora un accordo. Infatti l'Inter offrebbe 5 milioni e mezzo di parte fissa e 1,5 di parte variabile. Dybala però, come quella Juventus, si bonus non li accetta. Vuole un po' il posto fisso Dybala. Non vuole guadagnarsi effettivamente una parte di stipendio. Dybala ha detto, ma io sono meno di Lautaro e Brozovic. Vorrebbe infatti lo stesso stipendio di base fissa di Lautaro e Brozovic che è sui 6-6,5, una cosa del genere. Quindi l'Inter dovrà aumentare la parte fissa se vuole effettivamente avere il giocatore. Tutto questo ce lo dice Gianluca Di Marzio. Marotta controlla benissimo tutte le scene, tutta la comunicazione. È molto brava in questo, lo sappiamo. Ci sono le sfilate ultimamente nella sede dell'Inter. Dopo Antun, dopo altri agenti, è arrivato anche l'agente di Udoji. Ieri è entrato in sede dell'Inter, all'uscita ha fatto sapere che è stato un buon colloquio e che le parti probabilmente dovranno risentirsi. Quindi non era stato raggiunto niente. Udoji che è accostato alla Juventus, che è accostato al Tottenham e che secondo Sky Sport, due giorni fa o un giorno fa, aveva detto che Udoji poteva effettivamente andare alla Juventus in quanto i suoi agenti potevano cercare di convincere l'Udinese stessa. Cosa sceglie Udoji? Juventus, Inter, un anno all'Udinese oppure al Tottenham? Questo non lo sapremmo. Di fatto c'è che abbiamo le immagini degli agenti di Udoji che entrano nella sede dell'Inter. Quindi l'Inter c'è sul giocatore. Prima di passare a un nome vecchio ma nuovo vorrei commentare l'Italia che ha perso 5-2 difesa abbastanza inedita. Italia che io ho visto solo il primo tempo, non assolutamente convincente dal punto di vista difensivo. Allo stesso tempo però chi ha dato una lezione ai più grandi sono i piccolini dell'Under 21 che sono riusciti a qualificarsi per l'Europeo con una vittoria super convincente. Parlando sempre di Italia e italiani, la Roma dovrebbe essere su frattesi e la trattativa potrebbe chiudersi in modo molto semplice in quanto la Roma va al 30% della futura rivendita e quindi non costerebbe neanche troppo il giocatore. Invece il Milan con la difesa solida dell'anno scorso punta a ingaggiare anche Botman nonostante possa esserci il ritorno di Kier. Botman però ha uno super offerto al Newcastle e il Milan dovrebbe quantomeno avvicinarsi affinché possa ingaggiare il giocatore che però ha fatto sapere di volere solo il Milan. Torniamo un attimo alla Juve. Vi dicevo il nome vecchio che ritorna nuovo è quello di Leandro Paredes che ha il mio stesso nome. Nome, infatti secondo il Corriere dello Sport la Juventus nel caso in cui riuscisse a cedere a Artur potrebbe fiondarsi sul giocatore argentino che sarebbe perfetto da mettere davanti la difesa. Allo stesso tempo però il PSG chiede una cifra ritenuta alta alla Juventus che è quella di 20 milioni e il giocatore attualmente percepisce uno stipendio di 7 milioni netti quindi diciamo le difficoltà sono economiche oltre che il giocatore in una recente intervista ha fatto sapere di voler restare a Parigi. Come sapete ragazzi, è ufficiale, l'Atalanta non riscatterà De Miral o perlomeno a meno di super sorprese. Tutto Sport apre dicendo che con la cessione di De Miral la Juventus potrà affiondarsi su Poulibaly. A me sembra strana questa cosa, in ogni caso la Juventus aveva messo in parte l'opportunità di cedere De Miral io penso che Poulibaly sia un obiettivo reale della Juventus allo stesso tempo non capisco cosa possa centrare De Miral su questa situazione però vabbè, sogniamo, sogniamo tranquillamente. Ragazzi oggi le notizie sono finite, spero che questo video vi sia piaciuto oggi ho provato a fare un solo taglio, fatemi sapere se così il video è più dinamico e bello però mi tocca studiare un pochino di più. Grazie mille di essere stati con me, lasciate un like, lasciate un commento ci vediamo alle 11 e 11 su Twitch, grazie mille, buona giornata! Ah sì ragazzi, questa sera dalle 22 su AGGTV su Twitch c'è Romeo Gretti a Clamoros il nostro speciale calciomercato. Grazie mille! Grazie mille! Centrale un'intensAzionata 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 este